Ancora una volta, ciao ragazzi, bentornati su Minecraft Mappa Diversity, Anna Eh, ciao Eh, ciao Nell'ultimo episodio, tu sei malata intanto, ci introduciamo con questo, quindi da te Non tossire nel fottuto microfono Non ho fatto niente, stavo ridendo Non, madonna come ti, ti, ti Ah, ti porto al canile municipale Ehi Detto questo, detto questo, nello scorso episodio, come sempre vi abbiamo chiesto cosa avremmo dovuto fare in questo Quindi, nanna, che cosa, chi, che, quando Eh, se la sono contesa, ha vinto il labirinto Ha vinto il labirinto, quindi viola, lilla per noi questa volta Andiamo L'abirinto, chissà che cavolo c'è da aspettare Non so, perché questa mappa è sempre stata un pochino originale per quanto riguarda Ci sono le istruzioni Ah, ehm, instructions, vai Allora, l'ala del labirinto Vediamo in che cosa si differenzierà Dobbiamo raggiungere la fine Ma, 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 ma Ricorda Non citare Eh, Anna, madonna Eh, sì Io Oh, che cacchio di diavolo è stato, ho sentito un verso Comunque, il mio, il mio dubbio era che Eh, siccome le altre, anche le altre cose erano parecchio diverse dal solito E anche il survival era un po' diverso dal solito survival Ecco, magari ho pensato, ehm, anche qua ci saranno delle differenze Ora, non so che cosa potrebbe, però Ma che andiamo nella parte rossa, nella parte legnosa Ci dividiamo? Dai, dividiamo Ah, tu vai nella parte legnosa Io vado nella parte rossa Vai Io uso il metodo tradizionale Anche io, tengo la destra Madonna, qua c'è del bianco adesso Eh, pure da me Ok, quindi In teoria questa parte non dovrebbe Io ogni tanto sto trovando dei pezzi di legno Di pavimento di altri tipi Eh, infatti Avrà qualche significato secondo te? Boh Oddio Forse è solo per confondersi Potrebbe essere Ma tu sei già parecchio più avanti Anna Eh, è un vicolo cieco Io sono indietro Ma lascia stare Che secondo me è tutto un vicolo cieco Hai preso tu la strada giusta, mi sa Lo sai Tu tieni Oddio Eh, anch'io è tutto un vicolo cieco, eh Oddio Però sto tenendo sempre la destra Quindi piano piano dovrei per fo Cioè ce la devo fare per forza Tenendo la destra Mi faccio tutte le vie E prima o poi arriverò Stai iniziando a confondermi Ehi là, ti vedo Sei là lontano Anche Anche io ti vedo Eh Allora Qua c'è di nuovo del rosso Di qua Oh, forse ci stiamo ritrovando Lo sai Se ci stiamo ritrovando non è una buona cosa però No, no, non ci stiamo ritrovando Io ho raggiunto un altro fottuto vicolo Perché significa che tu dovrei fare tutta la mia parte E io tutta la tua No, non è così Infatti non ci siamo incontrati Ci siamo solo in tradizione Che? Che? Sei arrivata la fine? Sei arrivata la fine? Che culo Beh, a questo punto Visto che siamo in due A dividere il lavoro È concesso per me tipizzarmi da te Ma non avevi detto No, perché siamo in due Quindi quando lo finisce Stiamo in una squadra Brava compagna di squadra Grazie Allora Checkpoint stage 2 Oddio Quindi c'è più di uno Oddio Oh no Sì, sono tre Credo Che sono tre Quindi praticamente Facciamo appunteggio Tu hai fatto un punto Io ho zero punti Da che parte vuoi andare Dirigerti? Eh, sinistra Ok Buon viaggio Anche a te Guarda che bello Si illumina Mano mano Che tu vai avanti Ma io ho paura Ah Se ti fermi Si spegne tutto Oh oh Piccolo cieco Ma a me da noia Aspetta Va a abbassare il volume Da veramente fastidio Sto facendo Tic 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 Ecco Beh Era semplicemente Perché dovevi trovare L'ingresso giusto Oh 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 eh Oh eh 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 ho trovato Sì un punto Anche per lion Madonna lion Tipizzami Che io sono di nuovo All'inizio Tipizzami Tiè Andiamo Eeeh Immagini se ora Tipo è uno scherzo No no è giusto Yeeeh Yeeeh Madonna Anche questo Mi pare che qualcuno Ha detto che era Veramente lungo Torce Oh no Torce Uno stack e mezzo Di torce a testa Ok Oddio cristo Questa sarà Buia Vieni Sì Vieni Vieni a fianco 3 2 Stai ferma Oh oh Ehm Perché ci ha dato Le torce Per segnarti La strada Che fai Credo Oddio Ah Cazzo Ho preso fuoco Cazzo Vabbè qua c'è un bivio Io vado a destra Tu a sinistra Eh ma non bisognerebbe Tenere la testa Vabbè dai Ehm Ah Ah Aia Aia È brutto Devi stare Azzo Devi stare Molto Ah Oh porca di quella Puttana Sto morendo Aia Aia Sono morto Come hai fatto a morire La lava Ma ti ci sei messo Proprio dentro È difficile È stretto Sto aspettando L'ascensore Ok Ora muori E se muori Ti prendo per il culo Aia 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 Oh E cos'è Eh senti Ma è un po' impossibile Ti sento soffrire Eh Oddio Io sto cercando Di tenere la destra Ma non potevano metterci Che ne so Tipo Ah Qualcosa per non farsi del male Lì dentro Al posto delle torce Cosa servono Ste torce Eh Secondo me Per segnare Eh Ma non si possono Ah si che si possono piazzare Aia Ok Allora io le metto Bob Aia E la lava Oddio Ecco Oh ca Oh no No Ev Eh lo so Ev Andiamo su Ok Dio cristo Aia E' frusta Devi fare le curve Lentamente Perché se no Eh ho capito E' comunque frustrante Dove cazzo era andata Ah di qua Aia 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 Ti giuro che io mi sto incazzando tanto 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 Perché non è possibile Eh Respira Allora facciamo così Se tu vedi una torcia All'inizio di un vicolo Significa che Più avanti c'è un vicolo cieco Cos'hai trovato Ho sentito Ah no è rimorta Sì sto Sto soffrendo Ah 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 Calmi Calmi Madonna Madonna Anch'io sto soffrendo Sto soffrendo tanto Fermo Poi quando soffri Ti viene da spostarti E fai peggio Ti soffri di più Capito Comunque io Io sto segna Ah porca Di quella puttana È un altro piccolo cieco Metti la torcia All'inizio della svolta Così uno non ci ritorna Ma io di torcia Ne sto mettendo anche tante Però Aia Ho trovato un'altra Svolta Ma se io mi fermo Non muoio Perché comunque Ti si rigenerà la vita Parecchio velocemente Quindi Se non ti fai prendere dal panico In teoria Non muori In teoria Ok Forse sono Ah oddio Oddio Qua ci sono tipo 15 vie Oh Ah Ah No Oh mio dio Poi vado ad andare nell'ultima Anna Eh Smettila di soffrire Eh vorrei È un piccolo cieco È un piccolo Ah Vado a fuoco Porca di Oh Oh No lion No lion Non ti muovo Oh porca puttana Aia Oh ma io ti vedo Tu sei qua a fianco Davvero Eh Vedo il nome Oh Aia Aia Ferma Ferma Cazzo Oddio Dio cristo Anna Ma sei tu che mi hai spinto Tanto io adesso me la ricordo Sei sicura che te la ricordi Eh ti ricordi la strada per andare in mezzo aava No io me la ricordo Me la ricordo Una fava Piano piano Aia Era di qua Sei sicura? Sì Eh Sì era di qua Aia Ah Ah mi sto stionando Eh Non è Non sei più sicura? Eh di qua No ve lo ricordo Anna stiamo morendo Oddio Te lo ricordi o no? Non ne sono sicura È tutto così uguale Eh Uffa Oh madonna La la Maddio cristo Madonna come ti odio Ma uffa Andiamo Aia Dove Eh che cazzo ne so Metti le to Oh Che cosa? Lucita Davvero? Credo C'è una scalina Cala E basta morire Cazzo Basta Oh no Che c'è? Oh no Ma scusa ma qua si può zompare Credo di sì Opla Allora è facile Ci deve essere una fregatura No forse No semplicemente Puoi rischiare di morire Però è più facile Di quell'altro Sono già arrivato Vinto Yeah Oh Oddio Ah Sono Ma scusa ma si può saltare lì o no? Non lo so Ed è di sì Aspetta eh Aspetta mi sto destreggiando tra la lava Madonna sembro l'assassin creed Eccomi Vai E vai dove? Prima lei Lì Oh ce l'ho fatta Yeah Abbiamo vinto Anna credo Wow 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 Stanza viola A te l'onore Dai per la prima volta puoi prendere il blocco Dai prendi Mettilo nella cesta Sono felice Beh devo dire Devo dire Che non è stato così temibile Come pensavo Per niente anzi Anna no? Cioè è stato ammissibile Tutto sommato Bene Vi auguro una buona giornata Se la giornata di oggi Dovesse essere finita Mentre guardavate questo video Guardate quello domani Lion Anna Out